Musica Amiche e amici di Rossini TV, benvenuti a Casa Rossini. Oggi una puntata a cui teniamo particolarmente, una puntata che rincorriamo, lo possiamo dire, lo dicono in gergo televisivo, che rincorriamo dalla scorsa stagione. Siamo con Marcella Tinazzi, buongiorno Marcella. Buongiorno, un piacere essere qua. Sono contento che siamo riusciti a far combinare l'invito alla ripresa della nuova stagione, anche perché di cose da dire ce ne sono tante e soprattutto, le dicevamo anche prima di metterci in onda, insomma sono tutte cose anche piene di sentimento, piene di vita. Nuovi scenari, ma sempre con radici profonde, no? Questo è un lavoro che dà una storia, che diventa, che è professionale, ma che è essenzialmente personale. Allora, aspetta perché io me lo voglio andare a leggere. Noi abbiamo fatto scrivere dalla regia ex dirigente ufficio d'ambito provinciale. Detto così, uno dice, boh, ma cosa vuol dire in realtà? Allora, tanto per capirci, il gergo popolare lo chiamava provveditorato, poi a un certo punto, non so perché hai cambiato... Sì, la mia battuta quando mi dicevano, quindi lei è il provveditore, dicevo sì, ma non provvedo a nulla. Ecco, quindi sì, era provveditore agli studi. Praticamente è una dirigenza territoriale cui fanno capo tutte le scuole della provincia. detta in termini numerici 48.000 studenti di ogni ordine grado che fanno capo all'ufficio scolastico territoriale o ufficio di ambito sesto della direzione scolastica regionale delle Marche. Tu vedi che, insomma, l'addizione è abbastanza... Sì, è molto difficile, insomma, metterlo nel biglietto da visita. Certamente, sì, vogliono tre righe. Esatto, diventa molto complicato. Più facile pensare all'idea della provveditore a quel punto, anche lì, insomma... Sì, appunto, come noti, non vi è bene comunque. Esatto, siamo in difficoltà. Bene, però un ruolo che hai ricoperto per sei anni e che ti vede adesso fresca pensionata. Sì, allora, sono andata in pensione ufficialmente il primo di settembre. E devo dire, con grande trasporto, un trasporto emotivo, un trasporto personale, l'idea favoleggiata di un tempo in cui potevo riprendermi il mio tempo. Certo. Era questa, no? Questo era il life motive. Finalmente. Finalmente, non rendere conto a nessuno del mio tempo, che è quello che più, diciamo, mi è pesato e aggravato sulle mie spalle negli ultimi anni. Perché devi anche pensare che sono arrivata a fare il, chiamiamolo, provveditore, nel 2015. Guarda caso, ci è sbocciata tra le mani la legge 107, cosiddetta la buona scuola. E quindi con tutto il piano assunzionale gigantesco, complesso, marchi, ingegni, algoritmi da portare avanti. Fatto con il massimo dell'impegno che potevamo garantire. Molto soddisfacente, perché sono numeri che ci hanno gratificato. Mai successo di assumere centinaia e centinaia di persone nell'arco di una breve estate. Ma il governo Renzi era assolutamente determinato sul rispetto dei tempi. Termino questo doppio mandato di sei anni con il Covid. Quindi io credo che la cifra del mio essere stanca stia in questo inizio, in questa fine del mio mandato amministrativo. Sicuramente sì, sicuramente sì. Ed è un luogo comune quello che quando uno va in pensione non se ne vorrebbe andare. Invece in questo caso, diciamo che sono arrivata al momento giusto. Avevo anche una costellazione di affetti da, in qualche maniera, considerare dopo tanti anni di impegni. E poi, come tutti sapete, ho subito un lutto grave. A quel punto ho dovuto anche riconsiderare tutto sto tempo che mi trovavo addosso. Poiché le cose non accadono mai per caso, ho ricevuto una proposta direttamente dal Ministro. Stavo andando in treno a Francavilla ed erano gli inizi di settembre. Mi ha chiesto se volevo collaborare con lui per la revisione di alcuni dei punti che lui ritiene focali nella sua azione politica. Per fortuna ero in treno, quindi ero seduta. Perché tu puoi immaginare che non accade tutti i giorni che... Ma che ti chiama il Ministro? No, infatti, così. E poiché ero e sono frastornata da questa nuova geografia del mio esistere, ho detto di sì. Ci ho riflettuto un attimo, gli ho detto, ma lei è sicuro? Assolutamente, ho visto il suo curriculum. Benissimo. Sono estremamente gratificata da questa fiducia che mi ha voluto concedere il Ministro, però ho dovuto comunque ridisegnare tutta la mia vita futura sulla base di un impegno che faccio mio e che sicuramente assolverò come posso nel migliore dei modi. Io ho incrociato televisivamente parlando il Ministro Bianchi, in un'occasione particolare, rientrava da una delle prime del ROF, è passato in Piazzata della Libertà dove stavano completando gli ultimi dettagli del famoso murale in 3D, anzi del pavimentale, come lo chiamo io. Pavimentale, sì, ci sta meglio. E insomma è uscita una battuta. Devo dire che in quei pochi istanti ho visto una persona molto legata a quello che è il nostro territorio, Pesaro, ha detto delle parole molto belle e soprattutto, non lo so se sono bravi attori o no, ma molto convinte. Sì, ho avuto la medesima impressione. Avevo già conosciuto in precedenza, in un altro contesto, quando non era Ministro, il Professor Bianchi, devo dire che al di là anche di questo atteggiamento estremamente empatico che ha, no, tipico e obbligatorio, a mio avviso, in chi fa il docente, a qualunque grado di scuola appartenga. Ecco, e lì ci si aprirebbe un mondo, no, di riflessione. Bene, effettivamente è legatissimo al nostro territorio, innamorato perdutamente anche delle Rossini Opera Festival perché è un conoscitore di tutto il mondo operistico e devo dire che anche a me ha dato questa impressione di un senso di appartenenza al nostro territorio profondo. E di conseguenza, come espressione grande del nostro territorio, ti ha scelto per collaborare con lui e al Ministero. Io ho una storia professionale che oltre a quella svolta nelle scuole, corridoi, aule scolastiche, laboratori, soprattutto studentesse, studenti, bambini, bambine, è legata anche alla formazione, nel senso che per anni mi sono occupata di formazione dei docenti neoassunti, dei dirigenti neoassunti e fin dall'inizio, quando giovanissima dirigente, facciamo giovane, dirigente ho assunto il primo ruolo in Emilia Romagna, sono stata scelta per formare delle persone. Ne sono onorata ovviamente, questo comunque ha implicato che sono entrata a sei anni con un fiocco rosa così e ho sempre continuato a studiare, per forza, perché non puoi andare a formare gli altri se tu stessa non sei pronta a farlo. Evidentemente questo transito in una figura professionale che esula un po' dal fare solo il dirigente scolastico, che è ben presente nel mio curriculum, ha colpito il ministro e ha detto, lei l'ha già fatto questo lavoro, quindi c'è una riflessione da fare. Quindi vorrei riflettere, lo sto già facendo a dire vero, mi sono rimesso a studiare insomma. Lo immagino, lo immagino. E mi viene una domanda, una vita appunto dal fiocco della prima elementare dei sei anni, una vita nell'ambito scolastico come insegnante, poi 23 anni da preside, insomma una vita spesa completamente all'interno della scuola. Come sta la scuola? La scuola è viva e vegeta, è frizzante, è piena di complessità come deve essere, perché l'ipercomplessità connota tutti i sistemi scolastici del mondo. Perché? Perché comunque ci sono delle cose vive al suo interno, non si producono dei manufatti, si ricevono delle giovani menti, le giovani generazioni passano tutte in un banco, in una qualche scuola, ci stanno molti anni, guarda noi, no? Non si esce mai da un percorso di studi. La scuola sta bene, deve superare alcune delle difficoltà che da sempre, parlo della scuola italiana, ne connotano al suo esistere. Parlo per esempio dell'edilizia scolastica, che non dipende da noi, non dipende da me, non dipende da te, dipende da una scelta quasi sempre politica rispetto al dove si investe il denaro. Non avremmo le scuole in alcuni luoghi d'Italia cadenti, che ci sono, con tutti i doppi turni, l'assenza di aule adeguate, eccetera. Il nostro territorio è abbastanza fortunato, direi, perché ci sono degli amministratori molto attenti, che hanno quasi sempre cercato di prevenire il problema. Il Covid ci ha posti davanti alla necessità di dotarci di edifici scolastici assolutamente più adeguati. Si va a scuola per star bene, si va a scuola per apprendere e il contesto geografico in cui l'apprendimento avviene ha un grandissimo rilievo. Ha anche un grandissimo rilievo dal punto di vista politico, perché il bambino e il ragazzo che frequenta una scuola vede da lì che cosa fa l'amministratore, vede da lì quali risorse impiega. Un bambino che è in una scuola dotata di tutto, ma soprattutto che è una scuola sicura, in cui il controsoffitto non cade, in cui non entra l'acqua, è un bambino che avrà maggiore fiducia nella classe politica e assumerà un senso dello Stato diverso rispetto a quello che... Sì, a sei anni o addirittura ancora prima si diventa fruitori in quella fase lì inconsapevoli di quello che l'amministrazione fa per te in quel momento. E il bambino declina la propria fiducia in chi amministra rispetto ai luoghi che è chiamato a vivere. Se pensiamo che i bambini stanno, bambini, ragazzi, tantissime ore, a volte molto di più di quello che stanno in famiglia, dentro una scuola, noi dobbiamo già rendere conto da lì di qual è il messaggio che vogliamo dare. Le istituzioni che messaggio vogliono dare rispetto alla fruizione di un diritto fondamentale come il diritto allo studio? Pensa che io nel 2014, in un libricino che avevo fatto, che non so se definire delirante o utopistico, non lo so, che si chiamava Senza fare economia, avevo identificato l'edilizia scolastica, l'intervento sull'edilizia scolastica come il germoglio, il seme proprio di una rinascita economica del Paese. Perché, dicevo, è l'edilizia che ha mosso sempre tutto, però l'edilizia ha cominciato a mostrare i suoi limiti nel momento in cui basta con questi nuovi insediamenti e tutto, ma esiste un'edilizia che è completamente da ristrutturare, che tra l'altro richiederebbe dei tempi talmente stretti che non c'è neanche il rischio dei megacantieri, perché ognuno dovrebbe fare il suo di cantiere, per cui non c'è nemmeno il rischio dell'inserimento della malavita, sai, tutti questi rischi che ci sono. E allora io in questo delirio ipotizzavo una cosa del genere e la vedevo come la formula perfetta. E poi è arrivato il Covid che ha dimostrato che forse questo è da fare. Se c'era qualcosa... me lo farai leggere. Ah, se vuoi, sicuramente. Questa esplicitazione che hai definito delirante, che non è delirante per nulla, assolutamente. Grazie, grazie. È una riflessione che ho sempre fatto, perché comunque nelle scuole ci siamo stati, ci stiamo e poi soprattutto credo che il lockdown e la didattica a distanza abbia dimostrato qual è il valore straordinario dell'andare tutte le mattine insieme in un posto, che è poi l'essenza della confluenza di energie che fa sì che la scuola abbia un senso, se no allora stiamo tutti a casa, ci guardiamo i tutorial addirittura, non abbiamo neanche bisogno di guardarli in diretta, ce li guardiamo quando ci pare, perché dobbiamo guardarli in diretta? Certo, perché rispettare un orario, no? A quel punto, no? Non serve a niente. Sono venuti fuori con questo vulnus della didattica a distanza o della didattica integrata tutti i pregi di quello che è la scuola in un sistema evoluto e civile, di una società civile. Uno, il fornire un luogo di aggregazione tra pari, un luogo che deve essere di crescita e di maturazione, non solo di conquista di una conoscenza, ma ancora prima della capacità di vivere in una comunità, con tutte le regole che una comunità si deve dare. Questo è un curriculum implicito, fondamentale per chi si occupa di scuola e io dico sempre ai genitori, dicevo sempre ai genitori, vedi, non riesco neanche a parlarne al passato. Ma va benissimo. Devo assolutamente contestualizzare. Dicevo sempre ai genitori, ci portate ciò che di più prezioso avete. Non possiamo ogni anno dirvi che non dovete fare il rito dell'apertura della cartella all'uscita da scuola per vedere se hanno fatto da pagina 6 a pagina 11, come la cugina nella sezione B. Dovete chiederci, oggi hanno imparato a stare assieme? Che cosa hanno fatto assieme ai compagni? In che misura hanno acquisito il rispetto dell'altro? La capacità di riconoscere l'alterità? Pensiamo solamente al percorso straordinario della costruzione dell'identità. Qualunque tipo di percorso identitario passa attraverso il riconoscimento dell'alterità. Dell'alterità tra pari, essenzialmente, si comincia così. Dove lo fai? Se non in un luogo strutturato, con degli orari prefissati, perché anche il rispetto dell'orario servirà nella vita, no? A sapere come muoversi, che cosa bisogna fare per dare il meglio. Il Covid e tutte le forme che sono state studiate, scogitate per dare una risposta all'isolamento obbligatorio e coatto delle giovani generazioni, miravano proprio a non perdere neanche quel filo rosso di continuità, tanto che io l'ho voluta chiamare la didattica della vicinanza, perché dopo i primi momenti di panico sulle scuole chiuse, quantomeno abbiamo cominciato a guardarci attraverso uno schermo. E abbiamo visto delle cose anche molto belle, al di là delle critiche, molte delle quali assolutamente valide, c'è stato un momento di ricongiunzione al gruppo classe, di ritrovamento di quelli che erano i legami affettivi precedenti. L'alternativa qual era? Stare a casa davanti alla televisione. Sì, esatto. Ecco, per cui è vero, c'è un oiato totale tra quello che è il valore di una didattica attraverso uno schermo e quello che è la didattica in presenza, ma se sei obbligato, a un certo punto questo dobbiamo fare. E abbiamo imparato molto, eh? Penso di sì, penso di sì. Se pensiamo che l'aggregazione che era il nemico ha come suo contrario la disgregazione, capiamo subito che c'è un problema, no? Bene. E invece io penso che proprio in questo fatto dell'andarci tutti i giorni, la scuola è una specie di grande esercitazione permanente alla vita sostanzialmente, perché è quello che viene fatto ogni mattina, andarci, eccetera. Poi mi piacerebbe anche l'idea di andarci proprio senza farsi portare. Io sono sempre andato da solo a scuola. Sì, soprattutto in una... beh, sì. Si poteva. Io avevo una madre ansiosa per cui mi portava, però devo dire che sono le prime conquiste, no? Le prime prove di volo che si fanno andare a scuola da soli, con i genitori dietro, nascosti, abbiamo visto anche questo. Quando abbiamo iniziato, parlo del secondo Pleistocene, quel meraviglioso percorso di a scuola ci andiamo da soli. Sì. Io ricordo alcuni genitori, alcuni nonni che comunque erano un pochino preoccupati e li seguivano da lontano, i primi giorni, dopo passava tutto. Certo, certo, certo. Trovo che anche quello è stato un progetto. Io ho vissuto quello del Comune di Pesaro, perché ero in un qualche istituto comprensivo, di altissimo valore pedagogico, no? Perché comunque ha aiutato a camminare. Sì, dopo quando abbiamo scoperto insieme, perché anche io avevo partecipato con Pellero Village, quando abbiamo scoperto insieme che a scuola ci andiamo da soli era possibile, ma a scuola usciamo da soli non più, e siamo rimasti un po' perplessi, no? Perché in effetti la normativa a quel punto impediva l'uscita da soli, perché si configurava il rischio di abbandono di minore. Mi stai provocando, perché veramente fu una cosa... Questo rillo, dillo al ministro, dillo al ministro. Veramente non stava in piedi. Allora, il progetto era assolutamente, tra l'altro, perseguito in tantissimi paesi europei. Pensiamo ai paesi Svezia, Danimarca. È vero, sono di meno, vanno meno in macchina di noi, hanno un territorio che è assolutamente differente, la densità di popolazione, tutto quello che vuoi. Però è la norma che un bambino giunto alle elementari possa raggiungere la sua scuola liberamente. Non per nulla abbiamo le scuole di prossimità, mentre le scuole superiori le abbiamo dislocate, spalmate sul territorio, le scuole elementari sono veramente di prossimità, anche perché debbono rispondere ai bisogni di un territorio, fra cui appunto anche quello di consentire la facilità nel raggiungere il proprio plesso. E la norma, tuttavia, e molte sentenze ci impedivano di lasciare che i bambini tornassero. Esatto. Sì, l'abbiamo vissuta proprio come una disconferma pedagogica del valore progettuale, ma siamo andati avanti. Beh, certo, certo, anche perché in effetti non ci si poteva esatto, non ci si poteva fermare di fronte a una struttura che non teneva in considerazione tutta una serie. No, adesso va meglio però, perché c'è stata poi una circolare ministeriale, anche per i bambini, i ragazzini della scuola media, insomma. Arrivano da soli e poi li devi consegnare a un adulto. Esatto. E anche una negazione di un progetto pedagogico familiare. Io avevo i genitori arrabbiati che dicevano, come ho comprato casa di fronte e volete che uno di noi sia presente? Esatto, diventa, no? Non aveva senso. Marcella, il tempo vola, naturalmente, come sempre, ci manca un minutino che io ti regalo, nel senso che ti do la possibilità di esprimere un bel pensiero, oltre a tutti quelli sui quali ci siamo confrontati fino adesso, sul quale naturalmente ci lasciamo, ma temporaneamente, perché a casa Rossini una volta che si comincia poi si deve tornare, eh? Per forza. Notizia bellissima. Molto bene, grazie. Bene, cosa posso dire? Ho avuto tantissimo. Sono stata molto fortunata. Ho avuto la possibilità di lavorare in un contesto che mi ha tenuto sveglia, non giovane, sveglia. Ho sempre dovuto pensare, non solo con la mia testa, ma con la testa di una comunità educante, pensando attentamente alle decisioni da assumere. e soprattutto ho dovuto sempre esercitare la capacità di ascolto, perché chi fa questo lavoro, io adesso parlo da dirigente scolastico, ma parlo anche degli insegnanti, non è un lavoro per tutti. Occorre pensare, calarsi in situazione, non è un discorso di mera conoscenza di ciò che tu devi insegnare, è un discorso di attenzione e di interesse per il mondo, di curiosità per gli altri. Le porte debbono essere sempre aperte all'ascolto e ho potuto fare questo. Quindi io sono estremamente grata al sistema scuola. Spero di poter restituire qualcosa dei doni infiniti. I doni infiniti sono appunto questa mia tensione all'ascolto dell'altro e le testimonianze infinite che ho quasi tutti i giorni da chi è passato in qualcuna delle mie aule, sia esso professore, sia esso studente. Sono veramente circondata da un mare di energia buona e la voglio fare mia, mi servirà sempre. Vorrei anche un pochino andare avanti con dei progetti che questa volta ritaglio su me stessa e che sicuramente saranno bellissimi perché ho una ricchezza interiore che mi hanno regalato gli altri. Non ci poteva essere finale migliore, grazie per essere stata con noi e grazie per averci fatto questo regalo. A noi di Rossini TV, a Casa Rossini, a me e ai nostri telespettatori. L'appuntamento è per una prossima puntata di Casa Rossini. Ancora grazie a Marcella Tinazzi. Grazie a voi. Grazie a voi.